Milano all'eliporto della fiera campionaria giunge naturalmente dal cielo il ministro francese dell'aria Maroselli e a riceverlo il presidente onorevole Gasparotto e il capo di stato maggiore dell'aeronautica una mostra che ha suscitato molto interesse nel pubblico compendia in minuscole proporzioni tutta la storia dell'elicottero questa macchina che dopo molte avversità e molte speranze ormai sembra avviata ad un sicuro avvenire con l'elicottero l'uomo sta compiendo l'ultimo balzo alla conquista dei cieli